Grazie a voi, grazie all'ordine degli ingegneri di Bologna, a CAE per averci dato la possibilità di portare un saluto a nome dei sistemi di protezione civile regionale che sono oggi qui presenti ma sono stati anche presenti nel dare un supporto alla gestione dell'emergenza che questa volta ha colpito la Romagna e la volta precedente ha colpito la nostra isola di Ischia. E solo in questi momenti noi ci rendiamo conto di quanto questo sistema sia un valore aggiunto nella gestione delle nostre emergenze. Noi come sistema di protezione civile ci siamo e operiamo con grosse difficoltà. Quel problema dell'attrattività delle reti, delle professioni tecniche nel mondo della protezione civile è ancora più amplificato dal fatto che noi operiamo H24 con sale operative, con reperibilità dei nostri tecnici, che anche a Pasqua, Natale, Sabato, Domenica, di notte, di giorno devono assicurare una presenza sul territorio e purtroppo questo ci sta ponendo in grosse difficoltà operative. Se è vero che la protezione civile è importante servirebbero norme dedicate a garantire anche l'efficienza del sistema. Noi come protezione civile tutti gli scenari indotti dal cambiamento climatici, incendi, siccità, dissesto idraulico, idrogeologico li viviamo tutti. Non ne manca nessuno. I sistemi sono fortemente esposti. Se le politiche ordinarie di pianificazione e programmazione fossero più efficienti e performanti, probabilmente noi lavoreremmo di meno. Quindi non è nostro merito il fatto di essere presenti, ma sono le condizioni di contorno che ci obbligano ad essere sempre presenti. Gli interventi strutturali hanno la loro lentezza. Probabilmente servono anche delle norme dedicate. Ricordiamoci che in Italia ancora vige il reggio decreto 523 del 1904 che è l'unico testo che regolamenta le opere idrauliche. Probabilmente un testo concepito quando le regioni neanche esistevano andrebbe attualizzato e non lavorare per la proprietà transitiva della Bassanini e altri per allogare ruoli e competenze. In un mondo che è cambiato, dove ci sono le autorità di distretto e altri enti che sono preposti alla conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico del territorio. Noi come protezione civile ci occupiamo soprattutto della parte non strutturale, della cosiddetta prevenzione non strutturale. Abbiamo un sistema di allertamento che è un fiore all'occhiello, una buona pratica riconosciuta a livello internazionale. È quella che mettiamo in campo ogni giorno e anche quella ha bisogno chiaramente di una revisione, di un tagliando, perché noi ci rendiamo conto che il sistema di allertamento deve migliorare la sua capacità previsionale. E su questo confidiamo nel valore aggiunto che ci sarà e ci verrà da Italia Meteo. Dobbiamo migliorare la nostra capacità di completare il ciclo, il cosiddetto ultimo miglio, perché va rafforzata soprattutto la comunicazione verso il territorio, ma soprattutto vanno rafforzati i comportamenti dei cittadini, perché nel 2023 non si può morire per comportamenti sbagliati. Su questo noi protezioni civili ci siamo e speriamo che il sistema diventi più performante a 360 gradi per consentirci anche di non essere sempre presenti in via emergenziale. Grazie.